Tornerà in Libia? Credo di no, adesso è tempo di riposare un attimo, sistemare un attimo la situazione, vedere un po'. Scusate, ancora non ce la faccio a parlare, sono troppo provato per quanto accaduto. Sono le poche parole che Alessandro Sansone riesce a pronunciare ai nostri microfoni. Il giovane ingegnere originario di Novivelia sabato mattina ha rischiato di essere coinvolto nel rapimento messo a segno a Zuara in Libia. Tre suoi colleghi sono scomparsi improvvisamente nel nulla, due sono stati liberati solo ieri mattina, un terzo l'ingegnere della provincia di Piacenza è ancora nelle mani dei rapitori. I tecnici lavoravano a Zuara nella Libia occidentale per la società italiana Piacentini Costruzioni. Da subito il governo di Tripoli è apparso propendere per un rapimento a scopo di estorsione e non per un'azione terroristica. Nel rapimento poteva essere coinvolto anche Alessandro che è riuscito a scongiurare il peggio solo grazie ad una manciata di minuti. Il professionista cilentano di 28 anni è ancora sotto shock. Ieri sera è rientrato a Novivelia per riunirsi alla famiglia. Nel suo racconto la ricostruzione di quei minuti in cui sono stati rapiti i suoi colleghi. A Zuara dice Noi tecnici avevamo due appartamenti vicini da dove ogni mattina ci spostavamo per raggiungere i cantieri. Anche sabato mattina ci siamo mossi più o meno insieme. Dai due appartamenti sono partite quasi contemporaneamente tre auto. Io ero sulla prima vettura insieme ad un altro collega. Poi pochi minuti dopo sono scesi tre colleghi che sono stati rapiti e quasi contemporaneamente sono scesi altri due tecnici che sono giunti sul cantiere con una terza auto. Già sotto casa questi ultimi due hanno notato che qualcosa di strano era accaduto poiché la roba degli altri tre tecnici era in auto ma di loro non c'era nessuna traccia. Sono arrivati sul cantiere e ci hanno subito avvisato. A quel punto siamo tornati tutti a casa ma degli altri tre colleghi nessuna notizia. Lì abbiamo capito che qualcosa di grave era accaduto. Ho rischiato, racconta Alessandro. Mi sono salvato solo per una manciata di minuti. Minuto più, minuto meno. Potevo essere rapito anche io. Il giovane professionista era la sua prima esperienza all'estero. Era partito per la Libia quattro mesi fa. È stato un episodio, racconta, che ha sconvolto tutti. Zuara è considerata più tranquilla rispetto al resto della Libia. Il nostro piano di rientro prevedeva che se fosse successo qualcosa a Tripoli dove abbiamo altri due uffici, tutti avremmo dovuto raggiungere Zuara che è a 70 km dalla Tunisia. Per una questione di sicurezza Alessandro è stato subito rimpatriato e non ha avuto modo di ascoltare gli altri suoi colleghi. So che due sono stati liberati, dice, ma non ho avuto alcun contatto. I loro telefonini sono stati distrutti. Ora voglio solo riposarmi, ci confessa, e non credo che tornerò più in Libia. La Piacentini Costruzioni, per cui lavora Alessandro, sta attualmente lavorando alla ricostruzione e all'ammodernamento del porto di Zuara per un importo che si aggira intorno ai 37 milioni di euro. Dalla rivoluzione del 2011, che ha deposto Gheddafi, la Libia è teatro di rapimenti quasi giornalieri di membri delle forze di sicurezza, attivisti, giornalisti, giudici libici, ma anche civili e stranieri, spesso perpetrati a scopo di riscatto.